Anticipazioni terra amara, Zuleya e Fikret si ritrovano presso il luogo di votazione per eleggere il nuovo sindaco. Tuttavia, Fikret si mostra freddo nei confronti di Zuleya, che gli chiede se intende continuare a ignorarla nonostante lei sia l'unica persona di cui si fida. Fikret conferma, lamentandosi del fatto che lei abbia scelto Mehmet anziché ascoltarlo. In quel momento, sentono un forte rumore provenire dal parcheggio vicino. Zuleya nota una macchina in fiamme, riconoscendo quella di Akan. Senza esitare, si precipita verso di essa mentre Fikret cerca di trattenerla. Appena Akan esce dall'hotel, Zuleya corre ad abbracciarlo, entrambi sollevati di vedere che l'altro è al sicuro. Fikret, sconsolato, se ne va. Nel frattempo, il barbiere del paese racconta ai suoi amici che Mehmet, dopo essere salito in macchina, era rientrato in hotel per prendere qualcosa, e durante il suo ritorno, la macchina era esplosa. I presenti credono che Dio lo abbia protetto. Sermin e Betul, sentendo la storia, temono per Mehmet, ma il barbiere chiarisce che è sopravvissuto. Sermin accusa sua figlia, ma Betul nega e la chiama pazza. Zuleya e Akan si recano dal procuratore, dove Akan spiega di avere molti nemici a causa dei suoi affari, ma non ha sospetti precisi sull'attentato. Dopo, la porta a pranzo e Zuleya gli fa notare che sembra sottovalutare la situazione. Akan le assicura che la proteggerà sempre e insieme scopriranno chi è stato, ma Zuleya, spaventata, gli fa notare che anche lei e i suoi figli potevano essere coinvolti. Akan le promette protezione e le chiede di fidarsi di lui, mentre Zuleya si scusa per aver dubitato e lo esorta a essere prudente. Fikret, dopo l'attentato contro Akan, rafforza i suoi sospetti su di lui e confida a Chetín di percepire che nasconda qualcosa. Nonostante questo, Zuleya continua a fidarsi al punto da fidanzarsi con lui, ma spera che l'incidente con la bomba le apra gli occhi. Chetín commenta che l'amore è cieco. Kadir, venuto a conoscenza dell'attentato contro Akan, sospetta del fratello e lo affronta accusandolo di aver cercato di ucciderlo per vendetta. Vahap nega, sottolineando che Akan ha molti nemici anche in Libano. Successivamente, Akan chiede a Kadir se pensi che sia stato suo fratello a piazzare la bomba, ma Kadir nega e lo conforta dicendogli che, nonostante Vahap sia problematico, è comunque suo fratello. Chiede poi se Akan abbia sospetti su chi possa essere stato e gli consiglia di agire tempestivamente per proteggersi, poiché c'è chi vuole ucciderlo. Akan, rimanendo calmo, dice che indagheranno con calma ma che il responsabile pagherà. L'uomo che ha fatto esplodere la macchina di Akan va da Kolak per giustificarsi, ma viene aggredito per non aver completato il compito. Spiega di aver attivato il telecomando quando Akan ha aperto la macchina, ma che lui è rientrato subito in hotel, salvandosi. Kolak, furioso per il fallimento del piano, lo caccia via. Nel frattempo, si svolgono le elezioni per il nuovo amministratore, turbate da Gaffur che cerca di manipolare gli elettori, ma viene contrastato da Rashid. Dopo il voto, Zuleya presiede lo spoglio e Gaffur risulta vincitore per pochi punti. Convinto della vittoria, Gaffur chiama i musicanti per festeggiare. Zuleya confida a Lutfi le sue preoccupazioni per Akan, poiché sembra affrontare la situazione con troppa calma e non ha sospetti sul colpevole. Lutfi le consiglia di valutare se può fidarsi abbastanza da sposarlo. Zuleya decide di confrontarsi con Akan, ma scopre che ha partito per Ankara quella mattina. Nel frattempo, Betul riceve una citazione in giudizio da parte di Zuleya per appropriazione indebita, corruzione e truffa aggravata. Sorpresa e allarmata, Betul informa sua madre che a causa di Zuleya potrebbe finire in carcere per 15 anni. Determinata, si dirige da Zuleya per chiarire la situazione, gridando contro di lei. Zuleya, con calma, le spiega che essendo avvocato dovrebbe sapere che non sarà facile scampare alle accuse. Betul, furiosa, minaccia di ucciderla e tenta di attaccarla. Lutfi interviene per proteggere Zuleya, ma viene spinta con forza da Betul. Zuleya reagisce schiaffeggiandola, intimandole di stare al suo posto e di essere grata che non la punisce personalmente ma lascia che sia la legge a decidere. Nonostante le minacce di Betul, Gaffur interviene per cacciarla via, lasciando Zuleya e Lutfi sconvolte dall'incidente. Akan è ad Ankara con la donna abituale, che gli comunica che non è possibile ottenere indizi dalla bomba poiché è di costruzione artigianale. Gli conferma che ha molti nemici anche a Kukurova ma gli consiglia di rivelare la sua vera identità presto. Zuleya capisce la situazione ma gli ricorda che devono salvare altre tre persone e che svelare la sua identità potrebbe causare problemi. Gli assicura che la missione sta per concludersi, ma lo mette in guardia sulla storia della bomba, che le preoccupa. Betul si scusa con Kolak per il suo comportamento precedente e gli dice di aver capito cosa lui desidera da lei. Kolak, compiaciuto, le rivela il suo amore e la sua volontà che duri per sempre. Nel frattempo, Gaffur, soddisfatto per essere tornato ad essere l'amministratore della tenuta Yaman, comincia a mostrare il suo potere, tiranneggiando Rashid e trovando una complice in Gevrie. Sorprendendo sia Rashid che Fadik, alla villa arriva un rappresentante del comune che congratula Lutfi per essere stata eletta nel consiglio comunale. Zuleya la abbraccia felice, e tutti applaudono. Gaffur, per vendicarsi di Rashid che lo ha ostacolato, lo manda a riparare il tetto nonostante non abbia le competenze necessarie e possa essere pericoloso. Rashid, dopo aver posizionato delle balle sotto il tetto, simula una caduta, urlando di essersi rotto una gamba. Tutti accorrono, compresa Zuleya, che gli chiede cosa stesse facendo sul tetto. Rashid rivela di essere stato mandato da Gaffur per ripararlo. Zuleya, indignata, affronta Gaffur che ammette di aver organizzato la farsa per evitare di lavorare per una settimana. Zuleya lo rimprovera per la sua irresponsabilità e lo ordina di portare Rashid in ospedale. Rimasti soli, Gaffur lo picchia e lo minaccia di morte. Nel frattempo, un uomo di nome Nuri riporta a Kadir un pick-up che gli aveva venduto due giorni prima e che già non funziona. Chiede il rimborso, ma Kadir rifiuta, affermando che avrebbe dovuto controllarlo prima. Quando l'uomo se ne va, Kadir fa picchiare dai suoi uomini. Successivamente, spinge a mano il furgoncino lungo la strada. dove incontra Fikret. L'uomo racconta a Fikret di essere stato imbrogliato e picchiato da Kadir. Fikret lo traina in un'officina di sua fiducia e si impegna a far riparare il veicolo a proprie spese. Nel frattempo, al circolo cittadino, si tiene un ricevimento per festeggiare la vittoria della giunta comunale uscente. Lutfi, insieme al sindaco e agli altri, accoglie gli ospiti. Tra i primi ad arrivare c'è Fikret, orgoglioso di Lutfi. Il sindaco lo elogia per il ruolo importante che ha avuto nella vittoria. In quel momento, Kadir entra nel circolo cittadino e si congratula con il sindaco. Fikret, vedendolo, si infuria e chiede quando siano ammessi truffatori e criminali, accusandolo di aver ucciso Fecheli. Tutti sono sorpresi dalla sua dichiarazione, e Kadir lo sfida. Fikret risponde di non avere ancora prove, ma presto le avrà e chiaramente Kadir sarà punito. I due finiscono per venire alle mani e Kadir viene portato via. Lutfi porta Fikret in disparte e lo rimprovera per aver agito impulsivamente e per non aver seguito la legge, temendo che possa farsi del male. Fikret si scusa per essersi lasciato prendere dalla rabbia in un giorno così importante per lei e la rassicura che nessuno gli farà del male. Zuleyha si rivolge a Fikret, preoccupata perché pensa che Mehmet le stia nascondendo qualcosa, dato che c'è stato un attentato alla sua vita e non sta cercando il colpevole. Non sa cosa pensare e chiede aiuto a Fikret, che promette di fare delle ricerche su di lui. Nel frattempo, Kadir cerca di interagire nel paese, ma viene rifiutato da tutti, che lo scacciano dai negozi. Il barbiere lo accusa di essere l'assassino di Fecheli e gli dice che non c'è posto per lui a Kukurova. Quando torna a casa, Zuleyha trova Hakan ad aspettarla ma lo rimprovera per non averla avvertita del suo viaggio improvviso ad Ankara, specialmente sapendo che è spaventata. Hakan le spiega che capisce le sue paure ma era necessario partire improvvisamente. Zuleyha gli chiede di darle del tempo per elaborare quanto accaduto e per capire se può stare con un uomo che non la fa sentire al sicuro. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!